Investire sulla cultura e sul sociale per far ripartire il mezzogiorno è la sollecitazione della Fondazione con il Sud. In programma nei prossimi due fine settimana il forum nazionale dal titolo Cambiare il futuro. Una quattro giorni di approfondimenti e riflessioni su ciò che si deve fare per dare una scossa alla crisi. Tra gli ospiti autorevoli previsti a Bari il premio Nobel statunitense per l'economia Eric Maskin, il ministro del lavoro Giovannini, il quello del turismo De Mauro, il direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli, il collega Corrado Auges e Ignazio Visco governatore della Banca d'Italia. Al fianco degli ideatori dell'evento anche le associazioni, forum e presidi del libro. La cultura arricchisce il capitale umano che è una condizione per lo sviluppo. Il sociale è una condizione essenziale per lo sviluppo. Questi possono sembrare slogan. Se uno si guarda intorno e guarda le nostre città si accorge che questa è la pura verità. L'evento si terrà nei siti culturali del centro murattiano, piazza del Ferrarese, teatro Petruzzelli, sala Murà, auditorium della Vallisa, il fortino Sant'Antonio. Per la città di Bari un segnale di attenzione della manifestazione nazionale dopo le tappe di Napoli e Torino degli anni scorsi. È chiaro che Bari ha l'ambizione di essere uno di quei sud, che non molla, che combatte e che ha anche numeri importanti perché essere tra le città italiane, tra le più efficienti dal punto di vista economico finanziario è un record.